Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 6, quarta fase, del club della scommessa. L'unico a qualificarsi in questa fase era stato Carlo Rizzi, che aveva deciso di pronosticare 15 partite con quota non inferiore a 1,65 per concorrere a questo premio, un cellulare. In caso contrario il gioco terminerà qua. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. La prima partita era Schalke 0-4, Fortuna Düsseldorf 1, finita 0-4 lungo e perdente. Stuttgart Danover 1, finita 5-1 vincente. Lazio-Roma 1, finita 3-0 vincente. Tottenham Arsenal 1, finita 1-1 perdente. Brinkton-Hundersfield 1, finita 1-0 vincente. Real Madrid-Barcellona 1, finita 0-1 perdente. Villareal-Deportivo Alaves 1, finita 1-2 perdente. Marseille-Saint-Etienne 1, finita 2-0 vincente. Scusate qui avevo sbagliato a scrivere, a evidenziare. Vincente. Poi Verona-Venezia 1, finito 1-0 vincente. Andiamo avanti. Palermo-Lecce 1, finita 2-1 vincente. Napoli-Juventus 1, finito 1-2 perdente. Perugia-Serenitana 1, finito 3-1 vincente. Erta-Berlino-Mainz, over 2-1, finita 2-1 vincente. Milan-Sassuolo gol, finita 1-0 perdente. Lille-Dijon, over 2-1, finito 1-0 perdente. Siccome Carlo Rizzi non ha preso tutti i propri pronostici, il gioco del Club della Scommessa numero 6, quarta fase, termina qua. Vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!